Dopo le critiche ricevute per le sue performance a Ballando, Sonia Bruganelli ha deciso di rompere il silenzio. Durante una diretta su Instagram ha spiegato ai suoi followers i motivi dietro il suo comportamento controverso e ha chiesto scusa per aver mostrato un lusso eccessivo in alcuni momenti. Ha raccontato di aver affrontato momenti difficili a livello personale e psicologico per superare le sfide familiari. Inaspettatamente l'ex marito Paolo Bonolis ha espresso il suo sostegno e la sua vicinanza sui social dopo l'intervento di Sonia. Durante la diretta Sonia si è mostrata vulnerabile e sincera spiegando che Ballando è un lavoro che richiede impegno e che lei cerca di essere autentica nonostante le critiche ricevute. Ha parlato dei suoi scontri con Selvaggia Lucarelli e ha spiegato che sta cercando di seguire la sua strada senza preoccuparsi troppo delle opinioni altrui. Ha anche rivelato di aver affrontato la sua rabbia con l'aiuto di uno psicologo e di essere in un percorso di crescita personale. Sonia ha toccato anche il tema del suo rapporto con Paolo Bonolis, sottolineando che nonostante la separazione sono ancora molto vicini e uniti per il bene dei loro figli. Bonolis ha confermato questo legame con una dedica sui social, dimostrando il suo sostegno in un momento difficile per Sonia. In conclusione Sonia Bruganelli ha deciso di essere sincera e autentica, affrontando le critiche e cercando di crescere personalmente. Il sostegno ricevuto da Paolo Bonolis ha dimostrato che nonostante le difficoltà la famiglia rimane.